Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Gnocchi viene selezionato per lo show Emilio, 1989, nello stesso periodo e ospite al Gioco dei Nove condotto da Raimondo Vianello. Successivamente forma una affiattata coppia artistica con Teo Teocoli nella sitcom I vicini di casa. È nel varietà a mai dire gol. Nel 1994 realizza l'approfondimento per Rai 3. Trasmissione nella quale, assieme alla sua stralunata famiglia, commenta e discute i fatti più importanti del giorno.